salve a tutti i ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale del critico innanzitutto buon anno a voi anche se siamo già al 2 però buon anno lo stesso e ripartiamo con il nostro argomento preferito diciamo il calgio mercato come sappiamo oggi si apre ufficialmente oggi 2 gennaio si apre ufficialmente il calgio mercato e subito partiamo con una bella notizia in casa inter perché è stato trovato l'accordo proprio tra l'inter e club rouge per bucana bucana come lo volete chiamare bucana ne ho sentito ho sentito queste tre modi di chiamarlo e ve le dico tutte tre poi decidete voi come chiamarlo io lo chiamerò bugana per per par condicio e quindi stato trovato l'accordo per bugana si parla di 7 milioni di accordo più bonus per arrivare a 10 milioni totali bonus alcuni facilmente raggiungibili altri un po meno comunque il prezzo è meno rispetto a quello che chiedeva il brush per farlo partire perché comunque loro chiedevano dai qui dai 12 ai 15 milioni comunque piano piano con la trattativa siamo riusciti a strappare un pezzo più basso quindi complimenti alla dirigenza che piazza questo colpo che serviva comunque sulla fascia perché come ben sappiamo quadrato si è operato al tendine d'achille non sarà disponibile per i prossimi tre mesi dunfris comunque un una riserva per dunfris serve poi diciamo anche che il rinnovo proprio dell'olandese che tarda ad arrivare e tutto quindi anche già magari in estate dunfris potrebbe anche finire sul mercato quindi è bene già farsi trovare pronti a un eventuale gestione quindi bene allora personalmente il ragazzo io lo conosco poco perché comunque campionato belga non è che lo seguo come penso la maggior parte di di tutti noi non si segue molto il campionato belga quindi non so però da quello colletto quello che ho sentito il ragazzo il ragazzo un buon elemento ogni tanto giro la testa perché sto a vedere notizia di mercato il ragazzo può essere un buon innesto sulla fascia comunque può giocare sia da esterno che dalla come da terzino quindi può ricoprire tre ruoli che male non è comunque i suoi numeri i suoi numeri ce li ha e speriamo che anche il nero azzurro faccia faccia bene insomma speriamo rapporto qualità prezzo penso che comunque 10 milioni comunque sono 10 milioni raga però certo per un per un giocatore che sì che io personalmente non conosco non so cosa potrà cioè i numeri li ho letti però un conto è legge i numeri un conto è vedere proprio il giocatore l'elemento quando gioca quindi per dare un giudizio rapporto qualità prezzo aspetterò personalmente di vederlo all'opera almeno per qualche partita niente vediamo un po e adesso sarà interessante anche vedere se il mercato si fermerà già qui per noi o se magari ci sarà magari l'innesto in attacco che da mo che lo dico che serve come il pane in attaccante nuovo vediamo la dirigenza cosa vorrà fare perché comunque ci sono sirene americane sirene arabe per sanchez però bisogna vedere se lui sentirà già di andar via a gennaio magari se riusciamo a piazzare sanchez chissà che un corpo in attacco non verrà fatto e vediamo comunque l'arrivo di buganan per ora esclude l'arrivo di taremi perché comunque sono entrambi extracomunitari quindi posto l'ultimo posto d'extracomunitario che aveva l'inter lo prende lui quindi per il momento taremi non non si potrà prendere a meno che ripeto non vada via sanchez che libererebbe il posto vedremo magari qualche operazione in prestito chissà vedremo cosa farà la dirigenza e niente detto ciò raga fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo acquisto di questo colpo che comunque marotta ausilio riescono a piazzare già al primo giorno di mercato perché male non fa il ragazzo mi sembra che è atteso domani un massimo dopo domani a milano per le visite mediche vedremo se sarà a disposizione contro il verona ma non credo al massimo se ne parla per la settimana prossima e ripeto ditemi voi cosa ne pensate e niente io raga vi invito a lasciare mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanellina e vi mando un saluto e vi do appuntamento in un prossimo video sempre qui sul canale del critico nuovo giorno nuovo video nuovo giorno nuova critica un saluto raga ciao